Ecco, Gioè! Siamo pronti! Sei carico! Tu sei carico! No, per niente, per niente! Comunque, Bruschi... Ho tante belle e brutte notizie per te, Gioè! Però prima vai, dimmi, dimmi! Ho come Bruschi notizie? No, no, tranquillo, dimmi! Allora, io ti volevo raccontare due robe. La prima, che è il mio top donator del canale di tutta la storia, si chiama AirBruschetta73. E quando l'agenzia mi ha detto, farai le live con Bruschi, ho detto, C'è stato un plot twist, praticamente. C'è stato un plot twist, e poi, Bruschi, se tu me lo concedi, vorrei leggere la prima conversazione tra me e te su WhatsApp, il messaggio che mi ha mandato. Vai, ti do il permesso. Ragazzi, primo messaggio di Bruschi su WhatsApp per organizzarci per l'area della live è stato questo. Ciao Gio, sono Bruschi, e mi hanno passato i tuoi contatti, i ragazzi, anche per la live. Non so se ti ricordi di me, ma provo a sbloccarti un ricordo. A Milano, alla Games Week, eravamo nello stesso stand insieme con lo di Ancher. Ad un certo punto, Kokeshi, scherzosamente, mi attaccò dicendomi, ma tu chi sei che hai pochi followers, non mi parlare. E tu, inconsciamente, hai preso le mie difese e ci siamo conosciuti là. È vero. Eh, oh, mi hai difeso, cioè, non sapendo che stesse scherzando, ci sei messo davanti tipo, ma che cazzo dici, Kokeshi, ma cosa stai dicendo? Aspetta, Kokeshi, rispetto agli altri creator. Allora, Bruschi, oggi ci siamo sentiti e io ti devo chiedere ovviamente scusa, perché l'idea inizialmente era quella di fare qualche game insieme, che dopo lo faremo. Faremo dopo. Però il problema è che Bruschi non può essere all'interno del party, ragazzi, perché non ha ancora sbloccato i party. Li sblochiamo. Li sblochiamo adesso, li sblochiamo adesso. Vi chiedo scusa, ragazzi, ho fatto qualche piccolo... Ho fatto forse troppi pochi gameplay, però io non sono... Zio, ma hai sentito che gli altri creator hanno tutti scioppato sul gioco? Allora, ecco, ho delle brutte notizie nel senso che proprio di queste cose ti volevo parlare. Oggi è il mio compleanno. Mentre se vuoi intanto possiamo iniziare a giocare. Intanto diamo le brutte notizie al gioco e che voglio vedere le reazioni. Allora, intanto ho una sorpresina per te. Cos'è la sorpresina? Allora, ad aiutarci, cioè per coacharti, non potevo farlo da solo, perché sì, sono bravo nei giochi mobile, ma ho bisogno di un aiuto d'eccezione. E infatti qua oggi in chat abbiamo nonché meno... Intanto uno che domani giocherà contro di te, che si è qualificato al torneo. Ma è il miglior giocatore in Italia. Sì! Ha detto che non ti aiuterà troppo perché ce l'hai contro. Quindi siamo un po' mezzi fregati. No, frate, oggi male male. Oggi veramente male. Ma ragazzi, ma io l'ho presa sul ridere sta challenge. Cioè, mi sto impegnato, eccetera. Però è che, cioè, madonna, anche meno. Ma c'è un altro problema, io so che gli altri hanno shoppato. Quanto hanno shoppato? Io so che Blur 300 euro ci ha shoppato. Ma zio, ma se spendo io 300 euro, io vado in perdi da costa di V. Oh! Ma quelli stanno pieni di soldi, ragazzi. Ma vedete? Eh, questo è il capitalismo, ragazzi. Questo è il capitalismo. Però per Blur 300 euro saranno 3 euro. Te però anche Gioce li devi bussare a 100 euro. Ma come devo bussare a 100 euro? Da te! Va bene, va bene. Dopo ci mette al 100 euro. Dai che sei... E niente, fai gioca. Iniziamo... Cosa sai e cosa non sai? È il primo! Quello lo sappiamo tutti. È il primo! È il primo game. No, è il terzo fatto dei game oggi pomeriggio. Vai, fammi... Vediamo, io non ti dico niente intanto. Vediamo cosa fai. Vediamo. Allora, io ho scoperto che devo raccogliere le... Sentire i contorti, doppio guaio. Mi sa che questa non l'ho mai fatta. Con quale personaggio mi consigli di startare? Colta, Greg? Greg. Perché Greg puoi farti gli alberi dorati che sono qua sotto. Subito gli alberi devi andare. Ah, subito? Perché subito gli alberi? Perché ti danno un sacco di risorse. Già ti danno gemme e monete. E con quelle puoi aprire le casse. Vedi che già puoi ottenere quella cassa. Ah, ok, ok, ok. Perché l'obiettivo... Qua chi mi prendo? Daina che è raro, dai. Daina può starci. Quindi io con Greg mi faccio gli alberi. Ma quindi solo Greg può fare gli alberi? Solo Greg ha quell'abilità di fare gli alberi. Questo non c'ho abbastanza soldi. Ok. Esatto. Qua non c'ho abbastanza soldi. Quindi qua mi consigli di uccidere più persone possibile. Ora inizi a farmare. Ti fai la mappa, fai i personaggini. Quella è un'abilità. Vedi che lì c'è un... Aspetta. Bravo, fatti la cassa. Ehm... Greg. Prendi... Va bene, Greg. Oh, quando prendi tre personaggi fanno la fusione. Ok. E diventa uno più forte. E appunto per questo l'ho fatto. Occhio. Oh. Ok. Bravo, quella è una bomba. Aspetta, insomma, se vado sull'altra squadra gli droppo la bomba o cosa succede? Assolutamente. Ehi, gli fai male. Tanto male. Sì, dà. Vai, fagliela, fagliela. Tiragliela. Vai. Buono. Pusciala. Puscialo, puscialo, puscialo. Sardi. Ok. Per attaccare devi stare fermo. Eh no, questo lo ammazzo. No, questo è troppo forte. Oh, troppo forte. Gio, corri. Eh, è finita. No, Gio, corri. È finita. Prendi, prendi, prendi la cassa in alto a sinistra. È finita, ragazzi. Tieni la... Colt, colt, colt. Diamo. Tieni la bomba, bravo. Ma la bomba la tiro dalla distanza o da vicino? Ah, tu se la tieni premuta... Vai via! Vai via, vai giù, vai giù, vai giù. Ah, sono troppo forti, sono troppo forti ancora. Ok, nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, ci facciamo tutti. Bro, non è finito il giorno, ora no. Allora, eh, dynamite. Ok. Dynamite buono, ok, vai giù. Non ti farà ammazzare. Va bene. Fatti il goblino. Eh, la cassa, prendila. Ci serve un tank, ci serve qualcuno che prenda un po' di danni. Ok. Prendi cassa. E chi è il tank qua? Eh, nessuno, perché non puoi prenderli questi. Prendi il dina, ok. Questo lo faccio? Fatti quello grosso. Sì, sì, intanto ora li spacchi, ora li spacchi. Ok, scannato, easy. Vai, vai, easy. Ok, fatti l'alberello. Ok. Daina un po' brutto, effettivamente, però. Dai, non è scarso, fa schifo, dai. Non è buonissimo, non è buono. Ok, ok, ok. Qua sotto c'è una cassa. Bravissimo. Occhio a reel. Barbaro, barbaro, barbaro. So che il colt si trasforma a master on tank. Ok, questo è andato. Buono, fatti gli alberelli. Nice. Ce la faccio con questi. Eh, prova, prova, prova. Quello è buono, quello è buono. Lo fai, seguilo. Devi seguirlo e stoppare, seguirlo e stopparti. Stoppati. Via. Oh, porca paletta. Vai, vai, vai. Stoppati. Vai. Ma se ne vanno. Se ne vanno. Mena, mena, mena. Bastardi, vedi qua. No, vedi qua, vedi qua, vedi qua. Sei, sei messo male. Prendi il baule a destra, prendi il baule a destra, quello è epico. Colt. Niente. Colt, ma cavolo, non hai epici. Porca paletta. Eh, non ne ho, se non... È un problema qua. Oh, vai via, sei messo, giorgione, c'è un giorgione, vai via. C'è un giorgione. Sì, 30 secondi, resisti, sei quarto, stiamo vincendo comunque. Killar O'Leal, Killar O'Leal, che c'ha 11 gemme. Vai, fermati. Bravo. Ah, devo killar questo. Sì, sì, seguilo. Fermati, per cliccare. Sì, però sopra c'erano un sacco di gemme. Oh, no, devi ucciderlo, c'ha 11 gemme. Va bene, prendi il baule. Vai col... No, chi hai preso? Non lo so, il primo che mi ha preso. C'era la regina. No, vabbè, ho schippato la regina. Killar O'Leal, killar O'Leal. Dov'è, dov'è, dov'è? Sotto, sotto. Furia, furia. Usa la furia. Vai! No, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Bravo, bravo, va bene, dai, va bene, con calma. Terzo, zio. Oh, terzo, terzo, buono. Figa, però i primi due a 410 gemme, io ho 40 gemme. Eh, sì, sì. Ora apriamo una cassa. Ok, schiaccio per migliorare? Sì, assolutamente. Uno, due, tre, quattro. Buone, grande. Comune, grande. Vai. Ci sono rivestiti cinque personaggi, quattro? Cinque. Cinque, Greg. Ok, vai con la partitozza. Sentieri con torti. Sentieri con torti. Quindi, a sinistra cos'è la mappa? A sinistra è la mappa. A destra? A destra il modificatore. Modifier. In questo caso ci sono tanti stivali in giro per la mappa. Barbaro. Subito, perché è livello 2. Barbara, 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 non mi fanno parlare. Vai, killalo, killalo. Vai, fermati e kill. Cioè, quando dai un hit, seguilo, seguilo. Dai un hit e rivai addosso. Easy. Ha nientato, ha nientato. Impara a giocare, ragazzi. Quando fai una kill, hai il baule gratuito a destra, non devi spendere monete. Ah, quindi, quando faccio una kill, chi prendo? Fatti il barbaro, fatti il barbaro. Dai, così ce l'hai bello grosso. Anche se volevo fare... Il primo! Dopo lo prendiamo, dopo lo prendiamo. Ok, grazie. Raga, quanto vi facciamo shoppare a gioia? No, no, no. Prendi l'altra cassa? Prendi l'altra cassa? Mille. Maggiù in più, ti può cambiare la partita. Colt. Colt che fa bei danni. Sei secondo, a doveva recuperare. Ah, sono primo. Non vengono neanche per scherze queste cose. Questa cassa è rara. Colt. Colt, niente. L'unico. Vai. Fateli sti due. Buono, siamo primi, eh. Siamo primi. Esi, esi, frate. Il gioco dei campioni. Il più forte, il numero uno. Ok. Vai, fatti tu. Bravo, rimani qua. Farmati tutto l'albero. Mentre gli altri si comunque. Bravi, ragazzi. Cassa. Cassa. Colt. Evolviamo. Scandiamo questo. Fusione. La fusion. Vai. C'ho la bomba. C'ho la bomba nel caso, eh. La bomba potresti usarla per gli avversari o per le strutture, vedi tu. Il golem? Eh, facciamolo che c'è anche la missione. Tiragli la bomba. Ma la bomba fa danno anche a me. Fa danno? No. A te no. Ok, ok, ok. C'è la guarigione e la furia? Usala. Furia. Vai. Occhio. Dagli, dagli addosso. Dagli addosso. Occhio che c'è uno sotto. Sì, sì, sì. Vai addosso, vai addosso subito. Vai. Vai. Bravissimo. Bravo. Olè. Sono stato bellissimo. Sì, che è una bestia. È una bestia sto uomo. Oh, certo. Buono. Altra cosa. C'è la miniera. Magina, è miniera al centro. Al centro si è aperta la miniera, vuol dire che sto facendo le gemme. Corri, corri, corri. Eccola lì al centro. Ok. Bravo. Attorno, vedi che sputa. Buono. Vai, killa tutti. Puoi killar tutti ora. Tutta la lobby, vai. Vai, uomo. Vai, na me, na me, na me, na me, na me. Ancora. Ancettato. Anche tu altro. Greg. Vai sugli altri, vai sugli altri. Allora sugli altri, non sulla... Aber, aber, aber. Vai. Menalo, 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 menalo. Seguilo, seguilo. Sì. Fermati, ti devi fermare. Sì, sì, sì. E poi ricorri. Fermi e ricorri. Bello. Ancora. Ancora. Sì. Fagli attaccare, fagli attaccare. Ancora. Segui quello, il primo. Il primo, fermati. Vai. Mannaggia. Peccato, secondi. Puscia che il colpo. Oh, busche. Grazie. Grazie mille. Io domani cerco di guardarti. Grazie, bro. Facci fare bella figura, eh. No, mi hai tre, mi hai veramente cociato molto bene. Mi hai fatto capire tutto. Io stanotte giocherò qualcosina e finisco le ultimi 260.000 punti. Eh sì, usateli. Usateli. Magari potenziati. Oh, Gioe. Sono veramente forte. Ti ringrazio. Ti mando un bacino. È stato un onore, un piacere. Piacere mio. È stato un piacere. Ci sentiamo. Ciao, Gioe, buona serata. Bella, bella busche. Ciao, 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 ciao. Un bacione. Ciao, ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.